La cultura della pace non è un bollino che si è appiccicato a posteriori su un metodo militarista, ma è uno dei valori fondanti dello scautismo. Basta leggersi il libro di Baden Powell, La mia vita come un'avventura, per vedere che lui fa distinzione tra la sua vita numero uno e la vita numero due. Nella vita numero uno lui lavorava come militare, però il suo ruolo principale non erano i bombardamenti, ma era l'intelligence, cioè la raccolta di informazioni. Nella sua vita numero due, l'intenzione di Baden Powell nel realizzare i primi gembori non era quella di fare un generico raduno, ma era proprio quella di chi aveva conosciuto e visto gli errori della guerra fare in modo di creare occasioni di incontro tra popoli di nazioni diverse, perché i popoli che si sono incontrati poi non si fanno la guerra a vicenda. Il senso dell'uniforme, che si tende a specificare che un uniforme non una divisa nello scautismo, me l'ha dato un ragazzino peruviano di casa di ringhiera, che insisteva per andarsi a coricare con l'uniforme scauta. Stava male nel doversi mettere il pigiama. Quando io gli ho detto, va bene, io ti faccio dormire con l'uniforme, ma tu mi devi dire il motivo. Lui mi ha spiegato perché tutti gli altri bambini hanno dei pigiami molto più belli del mio e io invece la cosa più bella che ho è questo uniforme che porto con piacere e che sono felice di portare anche andandomi a coricare. Quindi anche l'uniforme è uno strumento educativo se usata intenzionalmente. Sono totalmente sgretolate tutte le agenzie educative che permettevano di acquisire gli strumenti per diventare buon cittadino. L'associazione dovrebbe tuffarsi fino al collo nella sua scelta politica esplicitata nel patto associativo. Io andrò a dire a tutti i capi di confrontare le loro scelte di lavoro, di vita, di impegno politico con i valori e i principi che sono poi quelli del patto associativo, del Vangelo, di essenzialità, di sovrietà, di accoglienza, di fratellanza internazionale, quindi di andare in direzione della coerenza. Per quanto riguarda il rapporto con i ragazzi, noi non facciamo addestramento, noi non facciamo imposizione di valori, noi facciamo educazione. Al seme non puoi dire di diventare pera o mela o pesca a seconda di quello che preferisci tu. Devi seminare, annaffiare e poi quando escono i primi germogli capirai verso dove si sta muovendo quel semino che tu hai piantato. Quindi io non dirò al militare tu sei fuori, dirò confrontati con lo spirito di non violenza evangelica che è contenuto nel patto associativo. Se dobbiamo proporre una scelta cristiana, cattolica, spirituale, religiosa a dei ragazzi, la strada obbligata è la testimonianza. C'è bisogno di azioni concrete e dirette per cui anche il capo con la vita spirituale diciamo più incerta può essere a pieno titolo inserito in questa prospettiva nel momento in cui testimonia con il suo impegno, con il suo volontariato, con la sua scelta di servizio il fatto di stare nella grotta di Gesù Bambino e non nella reggia di Erode. C'è bisogno di stare vicino ai poveri, a chi muore di fama, a chi ha freddo, a chi in quel momento è l'incarnazione di Cristo nei nostri quartieri, nelle nostre parrocchie, nelle nostre città. Quindi il punto debole è il rischio di rimanere appunto in questo limpo, in questo nirvana di scautismo prendendo un po' il contatto con le realtà di frontiera. Quindi noi non potremo esimerci dall'andare verso chi soffre se vogliamo avere un ruolo educativo coinvolgendo i ragazzi e non calandoli dall'alto senza strumenti in una situazione per uno scautismo che altrimenti rimane un gustarsi la nostra vita nei boschi tra di noi senza aprirci al mondo esterno, cosa che invece BP ci ha assolutamente raccomandato di fare.